virtual dj 2023 stems 2.0 uscita ufficialmente amici ma soprattutto amiche di sfd sono claude e quando esce quando viene fuori bimbi sani bimbi belli è arrivato virtual dj 2023 come annunciato nello spoiler di 15 giorni fa è uscita ufficialmente per tutti e si può scaricare sul sito ufficiale ma frenate perché ancora vi devo dire alcune cose prima di scaricarle andiamo a vedere virtual dj 2023 stems 2.0 finalmente uscita la versione ufficiale potete andare a scaricarla da subito dal sito ufficiale migliorata parecchio la qualità audio durante il processo di separazione degli stems rispetto alla 1.0 ricordiamo che virtual dj insieme a dj pro artificial intelligence con la neural mix aveva introdotto due anni or sono quella che per molti dj sembrava il bengò di un tempo una cosa irraggiungibile separare le cose isolare le parti della traccia la cappella in stem separati ossia parte vocale da una parte cassa dall'altra piatti melodia eccetera che per un dj o un producer è veramente un valore aggiunto per andare a creare mix remix mashup bootleg live non sai la differenza fra mashup bootleg edit remix non c'è problema su ss4dj c'è un video anche per quello anyway dopo virtual dj e dj pro artificial intelligence pochi mesi fa anche serato con la versione 3.0 si era allineata offrendo la separazione degli stems guardati il video qui se te lo sei perso mentre tractor ha tutto in cantiere per il futuro ha detto ci stiamo pensando lo faremo sì ma datti una mossa però il record box invece viene minga ne parla ancora per il momento tutto tace come prima botta due anni fa la qualità di questa separazione degli stems non era proprio eccelsa molti di voi si erano anche un po lamenticchiati ma con questo aggiornamento è stato fatto un bel passo in avanti chiaro che la perfezione della divisione netta tra gli elementi non la si può avere trattandosi di frequenze che si vanno a intersecare fra di loro sullo spettro qualche contaminazione ci può essere ma i risultati dopo i test fatti con le altre tecnologie in commercio parlo di software per dj quindi serato 3 e dj pro artificial intelligence al momento rendono virtual dj 2023 top nel settore per la separazione in tempo reale degli stems come tutte le cose belle c'è sempre un prezzo da pagare e cioè per fare un ottimo lavoro virtual dj ha bisogno di risorse parecchie risorse e avrà bisogno per fare tutto in tempo reale di computer sempre più performanti questo ve lo dico prima che andiate a scaricare a installare subito perché il ditino è già lì tic 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 pronto e potreste però avere dei problemi di rallentamento anche con pc abbastanza nuovi keep calm e quando andrete ad installarlo vi apparirà proprio un avviso di carico sì un avviso di carico sulla cpu che sarà maggiore ma se vuoi ridurre tale carico sul tuo sistema puoi preparare le tracce in anticipo andandole a trascinare in una cartella l'apposita chiamata stems oppure facendo click col tasto destro sul mouse selezionando la voce salva stems preparati un check verrà fatto per il vostro computer e se avrete la spunta verde tutto sarà ok ormai se non c'è la spunta non c'è più nessuno e instagram e twitter ducoions anyway andiamo a sentire come lavora e che cosa ha aggiunto in questa funzione prima cosa la cartella stems che vedete qua sotto divisa in stems e preparati dove possiamo preparare le tracce prima per avvantaggiarsi ed evitare problemi di performance del vostro computer andando a fare l'analisi prima così da evitare problemi live di affaticamento il file stems una volta analizzato avrà un'estensione chiamata appunto vdj stems e peserà un po di più due tre volte rispetto a un file normale chiaramente perché va a scomporre tutta la traccia in più parti separate l'altra novità è l'aggiunta del tasto separato a cappella e instrumental che ci permette oltre che isolare le singole voci di fare una versione solo vocal o solo instrumental per andare a creare mashup molto più intriganti live e tutto molto facilmente andiamo a caricarci una traccia che ancora non è stata analizzata per vedere che succede si vedrà una barra sotto qui vedete oltre alla forma d'onda che sta caricando la barra qua sotto vedete che il tempo nonostante che il computer sia performante ci vuole piano piano l'analizza e ovviamente siamo a bocce ferme e se vogliamo fare tutto in anticipo andiamo col tasto destro e dirò salva stems preparati o l'andremo a mettere nella cartella stems a questo punto vedete che the blessed madonna la troveremo qua in fase di analisi e la sta analizzando con calma questa è un'operazione che voi potete fare tranquillamente col computer lasciandolo lì andate a farvi fatti vostri in giro lasciate girare la notte avete tutte le tracce preparate che poi una volta finite andranno in preparati ecco qua vedete queste tracce se io le vado a caricare sul lettore schizzano sono già tutte prontissime per essere suonate vedete che hanno tutte e due le barre pronte e andiamo a sentire queste tracce ovviamente vi farò sentire piccoli pezzetti per evitare problemi di copyright vediamo dove c'è la voce partiamo solo dalla cappella o solo instrumental e beh insomma la qualità si sente rispetto all'altra volta oppure possiamo scegliere di usare solo la ritmica come in questo caso kick e ayat lo vediamo anche dalla forma d'onda qua sopra quando cambiamo che si anneriscono alcune parti solo basso cassa e basso quindi vedete possiamo possiamo giocarci come vogliamo solamente la parte strumentale e tutto questo può essere fatto live in diretta proviamo un'altra solo la ritmica solo la cappella oppure solo la parte strumentale direi abbastanza chiaro ne proviamo un'altra per vedere come gira san giovanni facci la grazia tra l'altro a me sta presto piace dite quello che volete ma per cambiare le sorti del mondo strumentale solo cassa e piatti quindi insomma immaginate già voi che cosa potete creare con questa tecnologia solamente ora fatto col mouse per cui immaginatevi con tutti i pad della vostra console insomma pc sempre più performanti se vogliamo cose nuove la tecnologia in calza e virtual dj sembra volerla cavalcare come sempre prima degli altri e dare la possibilità ai dj e producer di migliorare le performance ora tocca agli altri software andare ad allinearsi come qualità e come servizi rispetto a questo virtual dj 2023 che sembra davvero in fuga da qualche anno rispetto alla concorrenza e allora fatemi sapere la vostra opinione esperienze in merito qua sotto nei commenti corsi per dj corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandovi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indicati corsi per chi è già bravo e vuole migliorarsi per chi vuole iniziare da zero o per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo consulenze su tutte le tematiche trattate da esso esco di gi compreso quelle burocratiche dei problemi ma questo in regola suonare la sia e insomma tutte queste cose che vi danno un po' di problemucoli oltre al nostri canali facebook e instagram c'è tik tok non ti sei ancora iscritto vieni a seguirci nel nostro nuovo canale tik tok chiocciola sos4dj con piccoli video piccole pillole dove ti vengono spiegate però cose molto importanti per te seguici su tik tok oltre a tik tok c'è anche la community telegram se vuoi gratis ti puoi iscrivere il nostro canale youtube se vuoi puoi iscriverti qua ma anche abbonarti vai a vedere il video dove è spiegato tutta la corsia preferenziale che ti diamo un sacco di video tutti interessantissimi per il tuo mondo se fai il dj o se sei producer se sei all'inizio se sei bravo se sei un professionista sicuramente c'è l'argomento che fa per te tutto diviso in playlist così comodamente potete trovare tutto quello che vi manca che cercate ma anche tramite il tasto cerca qua sotto il nostro negozio official merchandising dai un'ucchiata c'è anche la linea anyway la linea suono solo quello che mi piace anche l'inglese i playboy da like vuoi essere informato in tempo reale su tutto ciò che accade sul canale in anteprima bene clicca la campanella e lo sarai oltre puoi mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutti questi contenuti siano utili spam sparagli lì ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite il tasto super grazie qua sotto o sostieni SOS4DJ Virtual DJ 2023 Stems 2.0 adesso tocca a voi andare a provare e vedere notare la differenza mi raccomando fatemelo sapere tutto qua sotto nei commenti da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una meravigliosa giornata a tutti voi ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere darvi sempre di più ovviamente tutto gratis ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piri 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 piri